Quindi noi cercare di capire se questi oggetti arrivano qua, qual è il loro principio propulsivo, qual è la loro fisica, non lo sappiamo, non lo potremmo sapere perché siamo come di fronte a un iglius che dice qualcosa che vuole. Guardi, questo è un foglio, sono 15 miliardi di anni luce, più o meno l'età dell'universo, andando anche alla velocità della luce è inutile viaggiare perché sarebbe non commercialmente utile, ma siccome qualcuno sostiene se si potesse piegare, vediamo che i punti estremi si potrebbero toccare e c'è qualcuno che parla di curvature, certo fa parte delle... Adesso sulle curvature ho l'opinione di Roberto Vacca. L'opinione scientifica qui è boh, la risposta scientifica di Roberto Vacca. L'opinione scientifica qui è boh, la risposta scientifica di Roberto Vacca. L'opinione scientifica qui è boh, la risposta scientifica di Roberto Vacca. L'opinione scientifica qui è boh, la risposta scientifica di Roberto Vacca. L'opinione scientifica qui è boh, la risposta scientifica di Roberto Vacca. Grazie a tutti.